Musica Si avvicinano le elezioni regionali. A settembre saremo chiamati ad eleggere il Consiglio della Regione Puglia e ad indicare la nostra preferenza su chi dovrà guidare l'ente. Incontriamo oggi uno dei vari candidati consiglieri, Domenico Damascelli, in Corsa per Forza Italia, a sostegno di Raffaele Fitto. Perché ha scelto di candidarsi con Forza Italia? Perché penso che la coerenza sia un valore. Io sono sempre dalla stessa parte. Il mio partito, sono stato eletto cinque anni fa in quel partito e ho inteso ricandidarmi sotto la stessa bandiera. Non ho mai cambiato formazione politica sin da quando ho iniziato la mia esperienza da ragazzino. E il mio partito che ha seguito di mozioni congressuali e di assemblee ha cambiato la denominazione. Sono stato eletto in Forza Italia nel 2015 e mi sono ricandidato in Forza Italia, a differenza invece di chi fa calcoli e cerca un simbolo rispetto ad un altro, una coalizione rispetto ad un'altra, a seconda delle proprie convenienze. Tanta gente si sposta quando fiuta la vittoria, quando pensa che una lista possa essere più conveniente rispetto all'altra. Io non faccio mai questi calcoli perché le idee e i valori per me hanno una grande importanza e sto sempre dalla stessa parte, nei momenti buoni e nei momenti difficili. In che cosa crede di poter dare il suo contributo? In questi cinque anni ho offerto il mio contributo mettendo da parte la bandiera della faziosità e essendo quella del bene comune. Quando sono stato eletto consigliere regionale ero coordinatore provinciale di Forza Italia. Ho lasciato il mio ruolo politico, nel mio partito non ho assunto nessun impegno, un semplice militante e sostenitore e mi sono dedicato anima, corpo, cuore e mente al mandato che mi è stato conferito dai cittadini. Non ho mai guardato la provenienza politica, partitica di chi mi ha cercato per sottoporne vicende, idee, iniziative, problemi. Ho studiato, ho approfondito, ho ricercato e ho scritto 113 interrogazioni, 55 mozioni, 22 proposti di legge che sono il frutto della condivisione, della concertazione, dell'ascolto e del confronto. Portando in consiglio regionale, nella regione Puglia, le idee e le iniziative ma soprattutto le esigenze del mio territorio e della mia comunità. Quali saranno i suoi principali punti programmatici? In questi anni ho scritto delle leggi che sono state approvate all'unanimità nel settore del welfare, della sanità, dell'agricoltura, dell'economia. Proseguirò su questa strada. È legge della regione Puglia una norma che stabilisce che tutte le aziende che vengono ad investire in Puglia da altri territori o che sono già presenti in Puglia e aprono una ulteriore unità produttiva o che nascono in Puglia nel 2020, siano esonerate dall'IRAP per 5 anni. È una legge che porta il mio nome e la mia firma per creare occupazione e per creare più lavoro e più economia nel nostro territorio. Questo è stato un impegno fondamentale. Noi dobbiamo proseguire su questo. Dobbiamo curare le infrastrutture, essere vicino agli amministratori comunali dei territori, ascoltare la voce dei cittadini, interloquire con i corpi intermedi. Sarà fondamentale cercare di sbloccare, anche se non è facile, il programma di sviluppo rurale, una matassa così ingarbugliata che nessuno riesce più a sbrogliare. Sarà importante continuare la lotta alla Xilella, sarà altrettanto prezioso cercare di destinare fondi alle infrastrutture, per l'agricoltura, per l'economia, ma anche per le città. Grazie ad un mio impegno, il sottopasso ferroviario di via Santo Spirito riceverà 4 milioni di euro a seguito di una mozione che ho presentato ed è stata approvata all'unanimità in Consiglio regionale. Il sovrappasso di giovinazzo che supera le ferrie dello Stato entrando nella città da Bitonto o da Terlizzi sarà riqualificato perché è stato approvato un progetto di 800 mila euro a seguito di una mia proposta e di una mia richiesta all'assessorato alle opere pubbliche della regione Puglia. Quindi sarà fondamentale curare i servizi sanitari. In tanti territori si continuano a chiudere ospedali. A Terlizzi c'è lo scandalo della chiusura del Sarcone dopo aver speso 13 milioni di euro di soldi dei cittadini, uno spreco di denaro pubblico e poi si chiude l'ospedale. A Trigiano hanno chiuso il Fallacara. Nel territorio come a Bitonto continuano a depotenziare, anziché potenziare, i servizi sanitari di prossimità. Non è concepibile che un ambulatorio, nel momento in cui il medico responsabile va in pensione, venga chiuso e non si prosegua con l'erogazione di un servizio specialistico importante. Che le strumentazioni diagnostiche non vengono utilizzate al meglio perché i medici e gli operatori della sanità non sono messi nelle condizioni di poterlo fare. Noi in Puglia abbiamo delle professionalità nel mondo della sanità eccellenti e straordinarie. E voglio ringraziarvi per tutto quello che fanno e che hanno fatto durante il periodo del coronavirus, ma anche in altri momenti. Ma purtroppo la politica non mette nelle condizioni di poter lavorare serenamente queste eccellenti professionalità. Quindi un altro aspetto fondamentale sarà curare con massima attenzione i servizi sanitari nella regione Puglia. Ultimamente ho scoperto che a Bitonto, alla fisiatria, il medico fisiatra è andato in aspettativa e da aprile i cittadini soprattutto più fragili, come gli anziani che hanno bisogno di fare riabilitazione post-operatoria, sono lasciati al loro destino. Non possono ricevere questo servizio e le cose le fanno anche di nascosto. Quindi io riesco ad avere le soffiate, a fare delle denunce e cerco di far ripristinare questi servizi. E sarà fondamentale proseguire su questa strada, garantire i livelli essenziali di assistenza alla gente e soprattutto alla popolazione più fragile. Secondo lei di che cosa ha bisogno il nostro territorio ed in particolar modo Bitonto? Il nostro territorio ha bisogno di tantissima cura, a cominciare proprio dalla prima piaga che vive l'intera regione e anche la nostra città. L'esigenza di lavoro, ecco perché ho scritto quella legge sull'Irap, perché dalla stima fatta appunto degli uffici e delle regioni, in base alla proposta di legge che ho scritto, dovrebbero nascere diverse nuove aziende e diverse nuove attività produttive. Bisogna essere vicino ai cittadini curando tanti aspetti legati all'ambiente, molto spesso bistrattato dalla nostra regione. Noi abbiamo dei boschi straordinari che sono abbandonati al loro destino e che l'estate vanno in fumo. Abbiamo un'agricoltura purtroppo molto bistrattata dalla giunta regionale, che non ha saputo sfruttare 1 miliardo e 600 milioni di euro di fondi europei messi a disposizione dall'Unione Europea per gli agricoltori pugliesi, che generano investimenti per 3 milioni e 2, quindi una grande opportunità di sviluppo che è venuta meno, ma addirittura un danno per tutti quegli agricoltori e quegli imprenditori, che in previsione della pubblicazione dei bandi del programma di sviluppo rurale avevano assunto degli impegni finanziari, avevano già provveduto a stipulare contratti per acquistare macchinari e attrezzature e si sono visti purtroppo tradire dalla giunta regionale che non ha più dato seguito al programma di sviluppo rurale. Per questa città bisognerà chiedere una maggiore efficienza dei servizi sanitari. Il PTA di Bitonto spesso è abbandonato al suo destino. In questi 5 anni ho lottato per far riaprire il punto di primo intervento, che qualche anno fa era stato chiuso perché da 24 ore era stato portato a 12 ore. Poi abbiamo riottenuto la riapertura a 24 ore. Avevano programmato di togliere il medico dall'ambulanza del 118 e anche su questo aspetto abbiamo fatto tante battaglie e Bitonto riesce a mantenere il 118 medicalizzato, a differenza magari dei provvedimenti che avevano stabilito. Abbiamo fatto riaprire il blocco operatorio perché lo avevano chiuso e questi lavori di riqualificazione degli impianti elettrici da mettere a norma avevano prorogato, sine die, la riapertura che non avveniva. Siamo intervenuti sugli ambulatori diagnostici e specialistici. Abbiamo ottenuto la riattivazione della TAC, ma poi nella TAC non ci sono gli accessori necessari per farla funzionare adeguatamente. Ecco, occorre lottare col coltello tra i denti, puntando i piedi, battendo i pugni sulle scrivenie che contano per cercare di tutelare la nostra comunità. In che cosa ha peccato la passata amministrazione? Purtroppo l'amministrazione regionale di centro-sinistra ha floppato e ha peccato in tanti settori. Lo dicevamo prima, nell'agricoltura la Xilella è arrivata in provincia di Bari a causa di miope atteggiamenti politici, di un atteggiamento assolutamente inconcludente e inefficiente dalla giunta regionale, perché non venivano applicate le misure di contenimento stabilite dall'Unione Europea e gli indirizzi dati dalla scienza di Stato. Gli alberi infetti andavano eradicati per evitare che il batterio si propagasse, ed Emiliano, anziché procedere ad applicare le misure di contenimento, andava ad abbracciare gli alberi infetti. La scienza ci ha dimostrato che quando un albero non veniva eradicato, la propagazione del batterio era a macchia d'olio ed era rapidissima. Se invece un albero infetto veniva eradicato, la propagazione veniva notevolmente rallentata. Tanti anni persi nella lotta alla Xilella, responsabilità politica ascrivibili sia al governo nazionale, ma anche e soprattutto al governo regionale, con un presidente, assessore alla sanità, assessore all'agricoltura, presidente della regione, fa tutto lui ma poi non riesce a fare niente, che va sui trattori a farsi fotografie da pubblicare sui social, ma non lavora per combattere la Xilella fastidiosa. Cultura, turismo, ma anche economia. Quale sarà la strada più giusta per ripartire, vista anche l'emergenza Covid? Bisogna destagionalizzare seriamente il turismo. Io più volte all'assessore regionale ho spiegato che occorrono misure strutturali, concrete e durature nel tempo. La Puglia non è soltanto il fantastico mare del Salento e del Gargano, così come è anche bello quello della provincia di Bari. La Puglia ha anche arte, monumenti, gallerie nazionali, la galleria nazionale che è in questa città, pinacoteche, cattedrali, prodotti tipici. Quindi bisogna promuovere il nostro territorio con un connubio tra i prodotti tipici, come a Bitonto l'olio extravergine oliva o i prodotti da forno dei nostri forni antichi a legna nel Borgo Antico, insieme alla nostra straordinaria arte al patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale che la Puglia ha e ha delle grandi potenzialità. Però bisogna anche procedere naturalmente alla sicurezza dedicata al turismo. Su questo bisognerà, secondo me, interloquire anche con le forze dell'ordine, sempre pronte, sempre disponibili a tutelare le esigenze del cittadino, ma chiediamo rinforzi, sia per la sicurezza nelle città, sia per la sicurezza nelle campagne, affinché gli organi ci siano rimpinguati, ci sia una maggiore presenza dello Stato nel nostro territorio. La cultura è anche un aspetto molto importante e fondamentale. In questi anni è stata utilizzata soltanto come veicolo elettorale. La Puglia ha delle grandi potenzialità ancora inespresse e anche per questo c'è tanto da lavorare. Sull'economia, invece, bisogna incentivare le aziende, bisogna cercare di ridurre le tasse. In questo periodo del Covid mi sono fortemente attivato per indirizzare il governo regionale, per stimolare e spronare il Presidente e la Giunta della Regione Puglia a sostenere le aziende. E proprio qualche giorno fa ho chiamato l'assessore allo sviluppo economico proponendogli di riattivare subito quei finanziamenti Covid, titolo secondo, e microprestito circolante a disposizione delle aziende pugliesi, recuperando dai fondi di sviluppo e coesione a disposizione della Regione Puglia, perché su 2 miliardi e 700 milioni ne sono stati utilizzati soltanto 53 milioni. È vero che sono dei fondi che occorrono per le infrastrutture, ma possono essere temporaneamente utilizzati e poi quei capitoli rifinanziati con Recovery Fund bisogna sostenere concretamente le nostre imprese perché rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto socio-economico. A proposito di emergenza sanitaria, nel periodo pandemico sono emerse diverse criticità sul piano sanitario e della ricerca. Come si potrà colmare questo vuoto? Il periodo da coronavirus ci ha insegnato tantissimo, ci ha insegnato che non ci possono più essere tagli sulla sanità. Basta con questi continui tagli ai reparti ospedalieri, alla medicina del territorio, basta con i tagli anche agli ospedali, dobbiamo offrire dei servizi sanitari efficienti. È fondamentale curare tutti gli aspetti della medicina della Regione Puglia. A cominciare da quella territoriale, le USCA sono state attivate con grande ritardo, le unità speciali per la continuità assistenziale. Se fossimo stati bravi come regioni ad attivarle immediatamente, avremmo evitato l'intasamento degli ospedali, avremmo potuto curare a casa i pazienti affetti da Covid, evitando che si aggravassero e poi fossero ricoverati nei reparti Covid della Regione Puglia. Così come sarà necessario comprendere e capire che i tagli vanno fatti dagli sprechi, non nei reparti, non con il personale, non con le strumentazioni diagnostiche. La nostra Regione è stata fortemente martoriata dall'emergenza Xilella, dal pieno di sviluppo rurale sfruttato non certo al massimo, per non parlare della piaga del caporalato. L'agricoltura non dovrebbe diventare volano del nostro territorio? L'agricoltura è il volano del nostro territorio, perché tante culture della Puglia rappresentano le eccellenze a livello nazionale e hanno il primato, sia per quanto riguarda la produzione, sia per la qualità di questi prodotti agricoli. Rappresenta una grande opportunità. Incide notevolmente sul PIL regionale, con oltre 3 miliardi di euro, ma anche crea un indotto fondamentale, perché grazie all'agricoltura vi è poi l'industria meccanica che produce le trazzature e le macchine per l'agricoltura, vi è l'industria chimica, vi è un indotto molto, ma molto considerevole, che incide notevolmente nel prodotto interno l'oldo della regione Puglia. Ecco perché è importante sostenere il settore agricolo, che oltre ad essere tradizione della nostra regione, emblema del nostro popolo, cultura del nostro territorio, e anche una grande risorsa e ricchezza economica. Ho presentato diverse proposte di legge nel campo dell'agricoltura, ricordo l'agricoltura sociale, che dà la possibilità alle persone con disabilità di poter soffrire di terapie riabilitative e alternative rispetto a quelle tradizionali. Ma anche durante il periodo del Covid, ho manifestato nel settore agricolo molta vicinanza scrivendo una mozione e un'interrogazione, chiedendo tavoli e una concertazione serrata con il Dipartimento della regione Puglia nel settore del florovivaismo, che nel nord barese rappresenta un segmento produttivo molto importante, con un fatturato molto considerevole e con grandi assunzioni, e anche al settore zootecnico. Allora ho ascoltato la voce e l'esigenza degli allevatori pogliesi e della nostra murgia, ho scritto una legge per cercare di andare incontro alle loro necessità, per stanziare dei fondi per non una boccata d'ossigeno al settore della zootecnia. La politica nel tempo ha fatto allontanare i giovani, che spesso appaiono disinteressati, e abbiamo recuperato con un commissariamento del governo la presenza delle donne nella massima assise regionale. Si può fare di più? Io sono sempre stato molto vicino ai giovani, ho curato molto anche gli ambienti giovanili nel mio partito, ma anche in altre realtà, anche nel mondo dell'agricoltura e non solo, anche nel mondo culturale, perché i giovani sono una grande risorsa di idee, di iniziative, di proposte, sono il motore propulsivo di un'iniziativa che si porta avanti nel mondo politico, ma anche nel mondo agricolo, culturale ed economico. Per quanto riguarda la doppia preferenza, Emiliano ha imbrogliato tutti i pugliesi come lui fa da cinque anni a questa parte. Che cosa è avvenuto? In consiglio regionale lui ha presentato una proposta che prevedeva la doppia preferenza, ma non l'obbligo delle quote 60 e 40 nelle liste. Il Parlamento italiano ha approvato la stessa proposta che noi stavamo approvando in regione Puglia, quindi lui ha detto che ha ottenuto da Roma un'approvazione quando in realtà l'avamo ottenuta già in regione e lui non ha consentito quella norma. Sulla doppia preferenza anche noi di Forza Italia abbiamo delle donne brave, capaci, in gamba, professioniste. Un messaggio finale per i suoi lettori. In questi anni sono sempre stato dalla stessa parte, quella dei cittadini. E allora dico ai bitontini, dico a tutti gli altri amici della provincia di Bari, dico a tutti gli elettori che il voto utile può andare su una persona che è costruito questo in questi anni, altrimenti sarà un voto perso e quindi un voto che non produrrà nessun risultato perché il mio impegno sarà sempre al servizio di tutti. Grazie a tutti.